L'ho riveduto così, dopo nove mesi, attraverso una doppia grata a maglia. Non ero mai entrata in una prigione. È stato un colloquio di mezz'ora. I carcerieri avevano quasi l'aria di patire, sentendo lui singhiozzare e vedendo me inrigidita. Mi lasci qua, nelle mani dei cani, senza una parola. E sai quanto ti sarei grato. Altre parole non trovo. Non ho più lacrime. Perché togliermi anche l'illusione che una volta tu mi abbia amato? È l'ultimo male che mi puoi fare.